Molto dei nostri clienti nel mondo del IoT rispondono sulla conectività cellulare per aiutare i loro business. Qualcuno sia per traccia di asset o per risorse lunghezza la possibilità di avere una soluzione di provisione remota dà una flessibilità molto necessaria. Qui, a Embedded World, stiamo mostrando una demo del nostro prodotto eSIM, il ST4SIM 300. Puoi osservare le capacità di download un nuovo profilo di network e iniziare lentamente, dopo aver ricevuto il comando di eSIM IoT Remote Manager. Per alcune convenienze, può arrivare già pre-configurato con un EIM-BIAS-T. La conectività cellulare iniziare un'attività di usi, dove bisogna cambiare tra i telecom operatori all'aria. Come ho parlato prima, il traccia di asset è più facile grazie alla possibilità di cambiare al profilo più conveniente per ogni paese dove il dispositivo è locato. Un altro esempio sono i SmartMeters, dove potresti traccare e mandare statistiche consumatori all'aria. E i sistemi possono avere una vita di 15 anni o più. Grazie al nostro eSIM è possibile rimotamente gestire la conectività del dispositivo durante questo periodo, permettendo di rinforzare la flexibilità. Il nostro prodotto è allineato con la specifizia eSIM-IoT specificazione S2P32. Nel senso di sicurezza, il ST4SIM300 può sottolineare come un elemento sottolineato per funzioni come GSM-IoT-Safe S2P32. Può interagire direttamente con il microcontroller usando SPI o I2C. Il ST4SIM300 è compatibile con le 5G e le nuove power sono disponibili in una serie di opzioni come un paese rinforzato di plastica , MFF2 e WLCSP . . Siamo molto felici di portare questa soluzione scelta che è compatibile con IOT e le applicazioni industriali all'interno e siamo convinti che sia il perfetto per i vostri applicazioni con iOT sui applicazioni Se vuoi sapere più, contattate la nostra rappresentazione . .. .. .. ..